Un posto al sole anticipazioni Gli spoiler di un posto al sole della puntata di martedì 11 febbraio riportano dei gustosi colpi di scena Appuntamento numero 5.438 che vedremo su Rai 3 al solito orario, apprenderemo una notizia scioccante La vita di Clara sta per cambiare completamente dato che la donna apprenderà di essere in dolce attesa Alberto cercherà di rimettersi in carreggiata e di superare le difficoltà ai cantieri Torio e Patrizio decideranno di andare a convivere Anticipazioni Un posto al sole, trama martedì 11 febbraio 2020 Dopo le ultime disavventure vissute sulla sua pelle, Alberto tirerà fuori il suo carattere battagliero e cercherà di risalire la china Il palladini contatterà una vecchia conoscenza, si tratterà di Cipriani Clara apprenderà di essere incinta di Alberto e la notizia lascerà la madre a dir poco sorpresa Furibonda per quanto accaduto a Clara, Nunzia deciderà di fare qualcosa e di risolvere questa faccenda una volta per sempre Maria prenderà una ferma decisione e chiuderà per sempre con Marcello Sarà facile per l'assistente sociale di Palazzo Paladini guarire da questa bruciante delusione, ma per fortuna la Poci non sarà sola A consolarla ci penseranno i suoi cari e le sue amicizie Presso dalla scarsità di spazio, Vittorio non saprà più che cosa Il giovane del bue si sfogherà con Patrizio e gli racconterà del profondo disagio Entrambi i ragazzi concorderanno su certi aspetti e si alleeranno decidendo di andare a vivere insieme Naturalmente i rispettivi genitori di Vittorio e Patrizio non reagiranno positivamente a questa notizia Spoiler Un posto al sole Clara abortirà? Nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo Nunzia rivolgersi ad una sua vecchia conoscenza per mettere Alberto alle strette Quest'ultimo vivrà un momento di pericolo in quanto sarà brutalmente aggredito Porterà avanti la sua gravidanza oppure deciderà di abortire? La notizia della convivenza dei rispettivi figli risulterà indigesta a Raffaele Guido i quali Cercheranno di correre ai ripari e chiederanno aiuto a Renato Tanto la crisi tra Serena e Filippo non accenderà a risolversi e la donna comincerà a sentirsi stanca di fare tutto da sola Leonardo sarà in agguato Grazie mille Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.